Un'associazione è punto di riferimento per l'intero territorio, un impegno gratuito e condiviso per stimolare il dibattito su temi di attualità e creare occasioni di incontro a livello comunitario, favorendo buone pratiche di promozione sociale e culturale. Da anni la FIDAPA promuove numerose iniziative e una pubblicazione meteora ideata dalla socia fondatrice Vilma Costantini spicca in termini di qualità di contenuti e attività associative. Diretta da Fernanda Pugliese è stata presentata alla sede di Termoli dell'Università del Molise. Meteora nasce come una rivista al femminile, volute da donne impegnate della nostra associazione, partita da donne che hanno messo le loro idee, le loro professionalità per parlare di altre donne. Nasce qui una rivista importante che ha avuto una risonanza nazionale perché ha sviluppato tutte le tematiche che negli anni la nostra associazione ha voluto portare avanti. Un'occasione per fare il punto sulle iniziative, promuovere le attività della FIDAPA e raccogliere nuove adesioni tra tutte le donne che vogliono condividere i principi associativi. All'incontro sono intervenuti tra gli altri il sindaco di Termoli, Angelo Sbrocca, Rosa Vulpio, presidente del distretto sud-est, Angelo Presenza, docente di management del turismo all'Università del Molise, Stefania Massucci, referente on the road e Fiorella Nibali, referente nazionale dell'associazione. A tutti i presenti è stata donata una copia di Meteora. Meteora raccoglie le notizie dell'associazione ma il particolare è che in ogni numero c'è l'approfondimento di un argomento. L'argomento di quest'anno è la carta dei diritti della bambina e fra i relatori avremo proprio la rappresentante nazionale Fiorella Nibali che è la referente della carta dei diritti della bambina. La nostra missione in qualità di movimento di opinione è proprio quello di muovere le idee, di sollecitare dibattiti, di sperimentare nuove modalità di fare creatività femminile e quindi anche quest'anno il nostro tema nazionale è sulla creatività femminile. Oggi siamo qui a Termoli per presentare la carta dei diritti della bambina che è una modalità per arrivare prima e meglio con scuola e noi stessi in famiglia a superare gli stereotipi di genere.